Sono benissimo delle intimidazioni, delle violenze, ma questo non può essere un alibi per vendere favori, siamo d'accordo? La nuova creatura! Facciamo bene a mettermi un filo. Troveremo che ha ucciso Umberto, te lo prometto. Io penso che sia tutte queste cose straordinarie in quanto emblematica. Dura sicuramente, dura e severa di natura, per molti versi, è indurita dalla vita che ha avuto, vulnerabile molto. Dove vorreste andare? Ovunque. Sono disposto ad andare ovunque. Andrò dove nessun altro vuole andare. È un lavoro che porta molta attenzione. È vero che i suicidi non ci sono solo tra i detenuti, ma spesso anche tra le persone che fanno questo lavoro. Perché veramente fra problemi di sicurezza, problemi invece di giustizia e di rieducazione, è un lavoro complesso. Non deve succedere mai più che colpisca un agente, né un altro membro dell'administrazione. Isolamento! Ho dovuto prendere coraggio col personaggio. È anche vero che quando hai tutto il film a disposizione, quando hai lo sguardo di un regista che ti guarda attentamente, che non sei solo di passaggio, non hai un ruolo in cui in poche scene devi raccontare tutto. Quando hai tutto il tempo per raccontare un personaggio, ti affatichi di più, però è più facile. Tu come stai? Non riesco a capirlo. Beh, male.